In questi giorni abbiamo avuto questa problematica sull'aeroporto di Salerno, nel senso che la compagnia che avrebbe dovuto effettuare questo volo per Medjugorje, per Mostar, si è tirata indietro a causa di alcune limitazioni che per questo tipo di aeromobile avrebbe la pista di Salerno. La Viroair, che è praticamente la compagnia con la quale Travel Before aveva fatto un preaccordo, se ho capito bene, proprio per questo tipo di voli, cioè Malta, Corfu, Zante e Medjugorje. Poi qui noi abbiamo una mail che in data 4 marzo dalla compagnia viene inviata a Travel Before e c'è questo grafico che Giovanni Paolillo vi mostra, che è un grafico delle temperature, che mostra durante il periodo estivo come le temperature si innalzano naturalmente e il tipo di incidenza che tutto questo ha sulla pista. Quindi la compagnia dice, scrive in questa data, a Travel Before, carissimo, qui da Salerno voli con 100 passeggeri non possono partire, ne possono atterrare, perché le temperature saliranno, possiamo fare solo voli da 50-60 posti, che ovviamente è antieconomico. Ecco, quindi a quel punto parliamo di un mese fa. Un mese fa, sì, abbiamo cercato di fare una pressione sulla compagnia, ma giustamente la compagnia si appella ad un discorso di sicurezza dei passeggeri. Ricordiamo che ogni aeromobile di ogni compagnia ha un proprio manuale di bordo dove sono previsti ovviamente per la sicurezza determinati parametri. Quindi loro hanno, dopo il volo effettuato, che abbiamo fatto insieme tra l'altro, a Trapani per i tifosi della Salerno e la squadra il 25 febbraio, hanno ritenuto opportuno, appunto, diciamo, da statistiche, da studi fatti sulle temperature, non operare più da Salerno. Abbiamo contattato un'altra compagnia che purtroppo ci ha spiegato le stesse cose. Diciamo, abbiamo limitazioni sull'aeroporto di Salerno, quindi se vuoi tutta la programmazione, diciamo, che avete fatto da Salerno, la dobbiamo ribaltare sul Napoli. Questa compagnia è stata contattata, che poi è la Carpateri, quattro giorni dopo la mail ricevuta, quindi l'8 marzo, e la compagnia risponde sostanzialmente nello stesso modo. E allora adesso i pacchetti che sono stati venduti su Malta, Zante, Corfu, Meggiugori, i passeggeri, i soldi? Allora, questi qui nello specifico delle persone del 20 aprile sono state già tutte quante riprotette su Roma, quindi abbiamo assicurato ovviamente i passeggeri, per chi ha voluto normalmente viaggiare da Roma, senza problemi partiranno da Roma. Il protette significa che è stata cambiata la partenza, la sede della partenza? Altrimenti chi non ha voluto, diciamo, non ha voluto accettare la partenza da Roma, verrà assolutamente rimborsato senza alcun tipo di problema. E quindi adesso, insomma, lei si trova tra due fuochi? Beh, in questo momento noi ci troviamo, diciamo, nel giro di 24 ore risolveremo il problema. Ma se dovessimo scegliere una di queste compagnie ovviamente dobbiamo operare obbligatoriamente da Napoli, perché purtroppo loro, diciamo, non vogliono volare da Salerno, non possono, secondo quelle che... Noi non entriamo, diciamo, nelle problematiche tecniche, perché ovviamente sono a discrezione della compagnia. Noi ci atteniamo a quello che ci ha comunicato il mio ufficiale la compagnia. Come ti ho mostrato, anche in una seconda mail la compagnia parla anche, diciamo, di un aggravio di costi rispetto a degli accordi, diciamo, fatti sulla carta precedentemente. Noi non entriamo, diciamo, in questo tipo di polemica, fatto sta che comunque la compagnia non vuole operare da Salerno, non è una soluzione per poter operare, per poter portare a termine la nostra programmazione, la dobbiamo trovare. Quindi presumibilmente, diciamo, voleremo da Napoli.